Sembrava che il centrocampista Giovanni Giuffrida, 31enne ex della Vibonese, potesse essere annunciato dal Pavia, società di serie D con cui si sta allenando leggi qui, NDR. Invece risulta che il giocatore non ha firmato, in quanto ha fatto sapere al club Lombardo di attendere un'eventuale chiamata da un club di serie C, per poter quindi restare tra i professionisti.